Protesta in mutande questa volta, degli esercenti del centro storico, siete veramente ridotti in mutande allora? Sì, adesso basta, siamo stati presi in giro per anni, ci ha tolto tutti i nostri diritti, il sindaco e la sua amministrazione ci hanno affamato, ci hanno tolto degli orari dove noi possiamo lavorare, ci hanno tolto un'ora e mezza al giorno e ci hanno ridotto il suolo pubblico, non ci hanno ascoltato nei parcheggi che noi volevamo e desideravamo avere in piazza Callalberto, in piazza Calà, dalle 20 di sera fino al 2 e mezza, presi in giro per tantissimi anni e alla fine invece vigili affari verbali e affari verbali, città in mano ai parcheggiatori abusivi, una città che non può essere legale, una città dove noi proponiamo i parcheggi a costo zero e il sindaco spende milioni e milioni di euro per fare una BRT che ha causato un morto e centinaia di invalidi e di feriti, poi uno suolo pubblico che non si sa perché ce lo tolgono, perché ce lo riducono, dove noi chiediamo sempre i regolamenti, quale ordinanza sia, cose che non esistono e quando gli diciamo di lasciarci in pace, di non fare più ordinanze contro di noi, ieri l'assessore ha commesso per risposta del sindaco, davanti a una delegazione di 50 e 600, quando noi abbiamo chiesto di finirla con queste cose e di andare a giocare con gli abusivi che occupano tutte le piazze e tutte le strade di Catania, con sua amministrazione di cibi, bevande e quant'altro e con tavoli e sedie fino alle 6 di mattino, che non hanno nessuna autorizzazione, ci viene risposto che gli abusivi sono un fenomeno sociale e i nostri figli che cosa sono? Sindaco Se dovesse succedere che lui non ce la decce, che lui dovesse diventare sindaco di Catania, noi serriamo i nostri locali e ce ne andiamo in un'altra città o forse anche all'estero, adesso siamo arrivati, perché oltre ad averci ridotto in mutande non abbiamo più nulla da perdere, ci deve lasciare in pace e se ne deve andare da questa città Siamo veramente esasperati, perché fino ad oggi le istituzioni pubbliche che dovevano aiutarci, l'assessorato di attività produttive, l'assessorato per la delega al centro storico non hanno fatto altro che aggravare la situazione, cioè nel corso di questi anni sono state messe tutta una serie di ordinanze volte a impoverire le nostre attività e oggi molti di noi non riescono a pagare l'affitto, non riescono a pagare i dipendenti e siamo molti sull'orlo del fallimento. A parte tutti i giovani e i professionisti che abbiamo dovuto licenziare dai nostri locali, perché la Movida è stata totalmente abbandonata, è stato un teatro di campagna elettorale per chiedere ordine, per chiedere legalità, basta fare 10 metri verso la stazione, verso Viale Africa e si può vedere tutto quello che c'è, che sicuramente non sono attività di somministrazione che possono avere tavoli e sedie. Adesso finiamola, lo Stato deve rispondere, non può sottrarsi alla tutea del commerciante che paga le tasse, che paga la spazzatura e che paga il suolo pubblico. Soprattutto noi chiediamo di sapere pubblicamente quale sia il regolamento che l'Ufficio Attività Produttive adotta per rilasciare la contestione di suolo pubblico. Noi vogliamo una carta scritta, vogliamo una carta che ci faccia capire quali sono i criteri con quale loro negano, approvano, riducono e fanno quello che vogliono sulla pelle delle persone. C'è stato un incontro che è stato veramente, come dire, la goccia che ha fatto traboccare il vaso. È da gennaio che noi aspettiamo una risposta perché c'è stato ridotto il suolo pubblico. Abbiamo chiesto i parametri in base al quale ci sono stati ridotti, c'è stato genericamente indicato l'articolo 20 del codice della strada che non riguarda la zona beta-TL perché è una zona a traffico limitato. L'articolo 20 del codice della strada era in vigore anche l'anno scorso, quindi mi chiedo sulla base di quali leggi oggi sono stati ridotti questi parametri e soprattutto una volta ancora chiediamo legalità, chiediamo tutela, siamo in un'Italia che ha bisogno di lavoro e loro cosa fanno? Loro ci riducono il suolo pubblico e ci dicono che gli abusivi non li possono toccare e questa è la più grande vergogna delle istituzioni. Lo Stato non può sottrarsi, è un suo dovere.